Allora vediamo, per venerdì vediamo, allora ci abbiamo questa francese che sono già in 10, lui ci guarda qui, sono 20, poi c'è la Claudia, è 20, ragazzi così però non ci si sta, per un attimo, Beppe, dimmi Sandro, non ci si sta, non ci si sta, e allora, e allora giù ci porta a tavola. Anche Ceri, saluta Spezia TV, ciao!